e non fare il pesce lesso da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone dai e bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi tutte le novità che riguardano il nostro fortnite quello che sta per succedere quello che dovrà succedere e ovviamente tante cose interessanti per quello che invece non viene detto almeno pubblicamente purtroppo non ci sono in questi giorni tantissime news riguardanti il game in sé e quindi dobbiamo cercare di stare molto attenti a tutte le indicazioni tutti quei piccoli segnali che epic games ci lascia la domanda veramente enorme che ci facciamo è perché perché epic games si sta comportando in questo modo tutto è iniziato al cambio di season dal cambio di capitolo del capitolo 1 al capitolo 2 è come se il team tutto lo staff si fosse chiuso in questa grande enorme bolla e non voglia più rendere pubblico tutto quello che fa lo notiamo appunto dalle modifiche che vengono fatte quasi quotidianamente in game e che se non le scopre qualcuno non vengono mai dette pubblicamente nel video di oggi però parleremo di della notizia ufficiale uscita sulle pagine relative a fortnite che parla del cambio direx che cos'è la direx è il software che funziona con le vostre schede video attenzione perché fra pochissimo smetteranno di far andare fortnite su alcune versioni di direx vi faccio vedere vi spiego come controllare velocemente la vostra ma in realtà ho uno spezzone video molto incredibile direi da farvi vedere che mostra un fantasma in game si ragazzi un fantasma vero e proprio lo vedremo insieme e poi abbiamo ufficialmente la data della fine di questa stagione e tutti ci aspettiamo qualcosa di molto molto big nella season 2 del capitolo 2 vedremo insieme anche questo prima comunque volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno passano a salutarmi ea farmi compagnia in live su twitch dalle 8 alle 18 grazie mille ragazzi per il vostro supporto e grazie mille anche a tutti quelli che utilizzano il mio codice creator xuderone mi raccomando ragazzi iscrivetevi ai canali e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica dei miei video prima comunque io ve la faccio la domandina uguale anche ieri mi avete risposto in tantissimi qua sotto nei commenti la domanda di oggi è un continuo della domanda che avevo fatto qualche giorno fa dove vi avevo chiesto quale collaborazione vorreste con fortnite oggi invece vi chiedo qual è stata la collaborazione che vi è piaciuta di più in assoluto ne hanno fatte veramente tantissime hanno fatto quella di borderlands hanno fatto quella con x laser ha fatto quella con batman ha fatto quella con le nfl con star wars con stranger things di tutto e di più io personalmente rimango un po nostalgico e sebbene non abbia mai ascoltato una delle sue canzoni la collaborazione con marshmallow e l'evento che c'è stato penso sia un capolavoro che rimane ancora nei miei ricordi e al numero uno della mia classifica dimmi invece qual è la tua preferita e scrivila qua sotto nei commenti ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance andiamo subito subito a vedere allora il post ufficiale che parla proprio della nuova direx nella patch 11.20 i giocatori del pc quindi solamente per noi giocatori da pc dovranno avere la direx 12 per giocare meglio se ce l'hanno invece che la 11 non è ancora stata disabilitata attenzione questo dicono servirà per avere molta più performance da parte del computer evitare quindi lag evitare crash improvvisi evitare drop degli fps la domanda è come facciamo a capire quale direx abbiamo ragazzi è semplicissimo con la vostra tastiera premete il tasto con il logo di windows tenendolo premuto premete la r quando si aprirà la schermata dove potrete digitare scrivete di x di a g e premete invio in questa finestra che aprirete potrete vedere la versione della direx se è superiore alla 11 state tranquilli se la 11 attenzione perché fra poco il supporto terminerà e quindi non sarà più possibile giocare a fortnite parliamo ovviamente di schede grafiche un pochettino più datate e andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi eccolo qua ragazzi è una cosa incredibile da poco da qualche ora è stato trovato questo fantasma che ogni tanto svolazza in game e giustamente uno si chiede ma che cavolo di senso ha nel senso innanzitutto grandissima delusione per quanto riguarda almeno a parer mio il discorso fortnite x star wars cioè non ha capito cosa è successo ha messo la nave lei in alto disegnata così a cazzo di culo e poi basta l'ha buttata via nel senso non c'è già più nulla ha messo la skin dell'assaltatore imperiale bellissima e è finito tutto vabbè nel senso a parte questo questo fantasma voglio farvi vedere il video voglio farvi vedere il video perché merita di essere visto quel video lì allora guardate che roba siamo nella parte in basso della mappa dove c'è l'isolo 8 con due o tre container guardate che roba così fa pure casino ragazzi adesso io vi invito io non l'ho mai visto mai ma è pazzesca questa cosa ora vedete che siamo proprio sulla fine della mappa adesso lo capite quando si inquadrà ecco qua l'isola con il con il coso penso che siamo lì credo perché c'è il fiume e questo fantasma qua ogni tanto esce da quelle due lapidi che ci sono e si fa un pochettino infatti i suoi ora ripeto non credo sia associato ad un evento penso che sia semplicemente un easter egg che hanno voluto mettere dentro quando non c'aveva niente da fare io vi invito ad andare a dargli un'occhiata per caso la cosa potrebbe essere potrebbe apparire anche a voi a me sinceramente non è mai apparso però ci stava a dirvelo e andiamo avanti con il prossimo argomento ragazzi ve lo ricordate questa schermata alle mie spalle i 14 giorni di fortnite per chi giocava nella season 7 che è stata la season che ha visto l'evento natalizio dell'anno scorso ricorderà sicuramente che nei 14 giorni di fortnite ci hanno regalato un premio per ogni giorno andavano dai dei wallpaper quindi delle schermate di caricamento agli spray ci hanno dato anche se non ricordo male delle coperture mi credo ci abbiano dato degli adesivi qualcosa di veramente carino perché parliamo dei 14 giorni di fortnite perché potrebbero riproporsi in questo in questa nuova season e parlo della season 2 del capitolo 2 infatti è stato trovato il pezzo di codice che va a dire ufficialmente la fine della season 1 di questo capitolo e come vedete ragazzi season and 13 12 2019 season display and 12 12 2019 vuol dire che il 12 finisce la season dicembre il 13 si comincia invece la nuova stagione che ovviamente vedrà tutto periodo natalizio quindi ci aspettiamo veramente che oltre a eventi legati al natale e forse anche modifiche alla mappa arriveranno anche le skin dedicate sicuramente torneranno alcune skin che abbiamo già visto ma aspettiamoci ovviamente anche di vederne di nuove insomma ragazzi anche per oggi queste erano tutte le news relative a fortnite io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi ai canali noi ci vediamo alle 8 in live su twitch ciao ciao